Dopo il Trattato di Parigi, tra il maggio e il giugno del 1945, migliaia di italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia furono obbligati a lasciare le loro terre. Altri furono uccisi dai partigiani di Tito, gettati nelle foibe o deportati. Anche Chieti ricorda le vittime dell'eccidio dei militari e civili italiani che abitavano in Friuli Venezia Giulia, nel Quarnaro e nella Dalmazia, che viene celebrato come giornata del ricordo il 10 febbraio. Secondo gli storici furono tra i 3 e i 5 mila i morti nei campi di concentramento yugoslavi. Al massacro seguì l'esodo Giuliano Dalmata, l'immigrazione dei cittadini dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia e dal Quarnaro. Sindaco, una cerimonia senza colore politico per ricordare le vittime delle foibe? Senza colori politici assolutamente, ci mancherebbe le vittime della guerra, come le vittime di qualunque altra catastrofe umana, non hanno colore politico e soprattutto devono essere ricordate affinché episodi atroci come questo, che stiamo ricordando nel giorno del ricordo e come ricordiamo anche nel giorno della memoria per le vittime dell'olocausto, debbano servire per le generazioni future affinché queste cose non accadano mai più. Dopo 20 anni dall'istituzione della giornata del ricordo per le vittime delle foibe, la storia sopravvive all'ideologia e ammonisce alla pace.